Ciao a tutti ragazzuoli, non sapete ancora come completare l'ister che dà la mappa zoom di Vanguard Terra Maledicta? Nessun problema, ecco a voi in 60 secondi un tutorial su come fare. Per prima cosa dovremo completare gli obiettivi iniziali per sbloccare tutte le zone necessarie per i singoli step. Una volta fatto dirigiamoci poi verso la speedcola e appoggiata delle casse sarà presente una runa, ci interagiamo e alla fine dei dialoghi si aprirà un portale blu. Lo prendiamo e dovremo semplicemente completare la sfida indicata che una volta fatto e ritornata alla normale mappa ci darà la possibilità di distruggere i 4 cristalli gialli presenti sulle mura delle case vicino alla first room. Lo facciamo e capiremo di aver concluso correttamente perché lo scudo al centro della mappa non sarà più avvolto da un bagliore. Ora andiamo invece verso il deadshot e al piano di sotto dovremo interagire con una nuova runa, dopo il quale si aprirà un portale simile al precedente ma verde. Ci entriamo e qui dovremo cercare di difendere i 3 sifo nuclei per caricare lo scudo, sparando agli zombie che si avvicineranno. Se fatto correttamente saremo ora in grado di prendere lo scudo, l'arma speciale di Terra Maledicta, e non ci resterà altro che affrontare l'ultimo step. Andiamo quindi vicino al Quick Rebive e appoggiata a questa pietra troveremo la terza runa. Dopo i vari dialoghi si aprirà un ulteriore portale. Ci entriamo e il nostro scopo sarà quello di distruggere i collegamenti, o meglio le difese della pagina del tomo. Saranno 4 e per farlo ci basterà avvicinarci con lo scudo e utilizzare il suo corpo speciale. Si potrà utilizzare una volta ogni 90 secondi. Perfetto, una volta concluso andiamo vicino alla pagina ormai svincolata. E poco dopo avremo la possibilità di tornare alla mapa principale attraverso un portale verde. Lo prendiamo e al nostro ritorno avremo una serie di ricompense per aver completato la prima main quest. Quindi, spero che il video vi sia stato utile e guardatelo come una sorta di esperimento. Nel mentre vi invito a lasciare un bel like per il supporto, in caso di problemi scrivimi pure nei commenti. Per il momento da Prisma è tutto. Bella.